Questa bellissima iniziativa. Il Salone dell'Automobile è un pezzo della storia della città. Il primo Salone dell'Automobile fu fatto nel 1900, poco distante da qui, al Torino Esposizioni, e a Torino Esposizioni lo si è fatto fino al 2000. 100 anni di storia si sono svolti in questo parco e il Salone dell'Automobile è stato per 100 anni il principale grande appuntamento congressuale, fieristico, espositivo di questa città. Poi la storia e l'evoluzione dell'automobile, delle sue forme di marketing e di commercializzazione hanno cambiato le modalità con cui oggi si fanno i saloni e anche la loro distribuzione nel mondo e il Salone di Torino, a un certo punto il Salone